e benvenuti in questo secondo episodio dopo vi farò vedere le mie carte ma ora apriremo tre nuovi pacchetti questa è la seconda parte e lo spacchettamento di ieri dello scopo di odio ecco perché non so quando uscirà questo odio ieri ho registrato lo spacchettamento di queste bustine dove ci abbiamo trovato godispo gx per ghost allora io intanto mentre registro devo mangiare però ho qui tre bustine le tre bustine che ieri non sono riuscito a riscattare quando ci sono riuscito per qualche strana magia e magica li apriamo due di evoluzioni e una di exception turbo crash andiamo a vedere da qua che cosa ci esce magica il picchu ulti sonic scatter p professor rock poliwin determinazioni misti clefegliolo e con gli occhi e a идеi bom b vediamo xy turbo crash dai golden greninja non mi tradire pure tu così ecco comunque se ho detto sono lo so mille stavo scherzando io sono castori dai greninja non mi tradire pure tu così greninja dai greninja golden sei cattivo però ora abbiamo siamo eustic maschio siamo eustic femmina pure golden greninja pure golden greninja che sfortuna che abbiamo detto dalla mia prima carta alla casa max allora vabbè o iphone alakazam ambipomp anorif aracuanid arcanine aziumarino shiny beautifry bidingo beldum biguerri blaziken boldor buffalant 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 braixen braixen bronzor bruxish bruxish reverse banale burmi catterpi catterpi reverse catterpi un altro censi reverse chargabag intanto devo mangiare raga un attimo un attimo un attimo chargabag charmander charmander charmilion charmilio reverse chesnaught chespin con bambasken con calder corso la cotoni cabonable crababler reverse chesnaught cutie fly delcetti del fox duong duong duot duot duopider diglett Dodrio, Dodrio, Doduo, Doduo, Dragonair, Dratini, Drillburt, Drowsy, Drowsy, Dugtrio, Dugtrio, Dusclops, Reverse, Duskaldab, Normale, Duskaldab, Reverse, Electric, Eevee, Electivire, Electrode, Electrode, Emboar, Entei, Espiongex, Excadrill, Firo, Phoebas, Fennekin, Flaren, Fletchling, Fomantis, Fungus, Frochi, Frogadier, Fulfro, Farret, un attimo. Garciomp, Gastly, Gastronom, Gigalit, Bloom, Golbat, Goldin, Gollet, vabbè, Golispoggex Hyperghost, che bellissimo Golispoggex, guardatelo quanto è bello. Questo che è? Questo che è? Greninja, Grimardialola, Growlite, Growlite, Kardar, Gairados, 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 Hunter, Hitmor, Hippopotas, Utut, Utut, Hoppip, Ursi, Hydragon, Hydragon. Però Turbo stavolta, eh raga? Se avessi gli altri due della fase evolutiva, ovvero Zuelus e Deino, sembra, sembra. C'è Gjoltion, c'è Gjoltion! Bello, Gjoltion! Cangascan, King, Rakir, Cleacrisketan, Lapras, 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 Larvitar, Lediba, Linun, Litleo, Litwick, Lopanni, Lunaton, Lunaton, Magcargo, Magigarp, Magigarp, Magmar, Magnemite, Magneton, Mandibas, Mankey, Meril, 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 Meril. Marowak Turbo, Marashado, Gix, Masquerain, Meditate, Meostick, Maschio, Meostick, Femmina. Raga, guardate, si capisce benissimo che questo è femmina e questo è maschio. Non riesco a leggere la descrizione, vabbè! Miao, 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 Miao! Metagross Olografico, che è più bellissimo. Miang, Miao, 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 Milotic, Miltank, Maltress, Morlal, Mudbrae, Nidorino, Ninetales, 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 Ninetalesdiadola, Ninetalesdiadola Olografico. Noibat, Nospas, Naslif, Naslif, Oddish, Onyx, Oshawat, Oshawat, Palpitod, Pansham, Pampour, Pansage, Pansage, Panser, Paras, Passimien, Patrat, Patrat, Persian, Persian, Pigknight, Pikachu, 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 Piggyback, Poliwill, Ponaita, Ponaita, Poplio, Hashtag Team Pro, Hashtag Team Poplio, Porygon, 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 Porygon 2, Primeape, Psy, 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 Dac, Quilladin, Raichu, Raichu olografico, Ah, pure l'altro fotografico, rals, rals, rapidash, un attimo. C'è di canto? Rimbombi, triolu, riolu, rogentola, traflet, samurai, vabbè tutta la gente qua. Vabbè, io sugli allenatori vabbè. Ragazzi, allenatori non parliamo ne manco di cosa c'è. Oh, che già lo sapete cosa c'è? E se non... Ah, non lo sapete? Lo scoprire tra poco. Va bene, sì ragazzi. Ho lo scambio gold, l'ho trovato nel pacchetto ieri, non so quando uscita sto video. Ehm, dov'è? Insomma, ho tantissime carte, poi le energie qua... Sono più di 200 l'energine. No, non sapete quante energie c'ho. Vabbè, poi c'ho... Beh, niente pacchetti. Gli oggetti tengo sulla... La moneta di Archeus russa, la moneta di Chiogre, argento e la moneta di Ninetales blu. Vabbè ragazzi, lo sapete una cosa io prendo sui... ... 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